Cosa pensi di fare adesso che ti hanno licenziata? Mi sono innamorato di un'altra donna. Non arrendersi mai. Ricominciare sempre. Perché la vita è il riverbero di ciò che sei. Davvero. Non è un'infermiera. È la mia assistente. Ellen! Sì? Lei non è come le altre tue amiche. Tu riesci a tirar fuori il meglio di chi hai accanto. Non sapevi che proprio quelli che sembrano sempre forti e coraggiosi, in fondo, sono i più fragili? Non è mai troppo tardi. Dai! Inga Lindstrom. Tutti pazzi per... Ellen! Venerdì 21.10 Una prima assistenza.